Papa Francesco lo ha detto a chiare lettere, sprecare il cibo è un vero e proprio delitto, allora qual è l'opera e l'impegno dei salesiani in questo settore, in questo ambito, in questa che è una vera e propria problematica? Sì, certamente non poteva lasciarci indifferente questo appello di Papa Francesco e non poteva lasciarci indifferente la grande iniziativa italiana dell'Expo 2015 che diventa una grande risorsa anche a livello educativo. Certamente noi a partire dal discorso del cibo, oltre a una sana formazione a livello di un'alimentazione corretta, ci stiamo impegnando molto sul leggere la fame dei ragazzi, non solo da un punto di vista alimentare, ma la fame di tutti quelli che sono i diritti che molto spesso vengono negati ai minori del sud Italia. Per questo motivo il prossimo anno stiamo lanciando un contest multiespressivo attraverso varie forme comunicative che i giovani sceglieranno, poi sono molto creativi quindi non avranno difficoltà in questo, che possa fotografare quella che è la fame del sud, una fame che nasce molto spesso dai diritti negati, la fame del lavoro, la fame dei diritti sociali, la fame dei diritti civili che in qualche modo interessano l'esigenza dei vari giovani. Quindi ci è sembrato bello mettere assieme queste due tematiche, tutto il discorso dell'alimentazione con l'alimentazione più profonda che va a costruire l'uomo in profondità, secondo un progetto integrale di uomo, secondo quanto anche la Chiesa Cattolica ci porta a pensare. Andando incontro al momento di Expo 2015 è sicuramente un ulteriore motivo per andare a parlare di cibo, di cultura del buon cibo, soprattutto della cultura del cibo che noi troviamo molto vicino alle città in cui viviamo. Lo facciamo sicuramente con dei partner quest'anno che sono attenti anche ad aspetti educativi in altro senso e quindi questo ci fa ulteriormente piacere. Noi cerchiamo di fare, come lo diciamo spesso, agricoltura. La possibilità di, attraverso anche Terra Nostra, la nostra associazione degli agriturismi e le masserie didattiche, abbiamo uno strumento in più da poter offrire ai cittadini per dare ai nostri figli, questo credo sia l'obiettivo principale, cultura alimentare. Quali sono, diciamo, diamo magari qualche piccola regola semplice per poter educare in maniera corretta ad una sana e buona alimentazione i ragazzi? Innanzitutto leggere la provenienza e accertarsi che sia quella reale e dichiarata, perché spesso la frutta non è italiana e viene distribuita come italiana. Bisogna pretendere dal fruttivendolo o dagli addetti una chiara provenienza. Ci devono essere dei certificati sia per la frutta, la verdura, perché purtroppo altre nazioni ora producono tantissimo, però non abbiamo certezze. Dobbiamo avere delle certezze anche per la pasta, che spesso viene fatta con del grano conservato a lungo, di provenienza o dall'est o dal Canada, con micotossine. E la quantità, se per l'adulto c'è un gradiente maggiore, ma nel bambino sino a 12 anni è un terzo di quello dell'adulto. Se le mamme facessero un po' di più in casa, vedendo la provenienza, sarebbe tanto di guadagnato anche per i dolci. Noi sappiamo che l'agricoltura da questo punto di vista deve fare la grandissima parte, perché attrarre il turismo con le bellezze naturali è anche molto importante affiancare le bellezze del cibo, la bellezza dell'agroalimentare e la sostanza buona dell'agroalimentare italiano, dove la Puglia può fare la gran parte.